Est Capital 4 nuove vendite immobiliari a Milano Est Capital SGR, società specializzata nella costituzione e nella gestione di fondi chiusi immobiliari, comunica di aver concluso 4 nuove vendite nel capoluogo Lombardo. Si tratta di 4 immobili del fondo Geoponente, situati in zone strategiche di Milano, destinata ad un notevole sviluppo commerciale. Via De Gracchi numero 35, Larga Augusto numero 7, Via Sebenico numero 7 alla Inate e Via L'Epetit numero 8, per circa complessivi 28.000 m2 coperti ed un valore di vendita di oltre 85 milioni di euro, con una plusvalenza prevista di oltre 17 milioni di euro, circa più 20% in nove mesi. Tali operazioni consentiranno di distribuire già nel corso del 2007 un provento di oltre 10 milioni di euro. Grazie a tutti.